a vado io e diocati io volevo riprendere qualcuno qualcuno è davanti dai Antenna vai aspetta eh cosa stai facendo? sta cercando di buon che bello stiamo a che ok 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 Oddio mamma Oddio mamma Grazie a tutti. Grazie a tutti. No 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 eh per forza un posto? eh ma dai ma come si fa voi? eh lì è scivolato in fondo come si fa? non è buon oh oh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In polvero Ti impacciugo Ti impacciugo Destro 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 Estro Destro 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 Ah no, io non c'è mica giù di qua Allora! Allora! Allora vado su, adesso vado Come andiamo? Che sei ben giù di taglia di occata Allora! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti